Una a due giorni intensa quelli che stanno vivendo i studenti delle scuole superiori che sono stati i migliori classificati nella fase regionale nelle sezioni di Biologia e Scienze della Terra delle Olimpiadi delle Scienze Naturali 2016. Nelle giornate di ieri, martedì 19 e oggi, mercoledì 20 aprile, i ragazzi stanno seguendo un'esperienza di stage con i ricercatori Unicam come premio per il brillante risultato conseguito. Guidati dalla professoressa Maria Gabriella Gabrielli per la sezione di Biologia e Biotecnologie e dal professore Marco Materazzi per la sezione di Geologia, i ragazzi stanno seguendo progetti di ricerca presso i laboratori dell'Ateneo, sperimentando la vita universitaria e potendo avere docenti di eccellenza per prepararsi al meglio per affrontare le fasi finali della competizione. L'evento è organizzato dalla Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria e dalla Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam nell'ambito del piano lauree scientifiche in collaborazione con la sezione Marche dell'Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali.